L'ennesima beffa, così la madre del 17enne investito ucciso da un poliziotto ubiaco a Paese, alla famiglia il conto della rimozione dello scooter e della pulizia del sangue sull'asfalto, la rabbia e il dolore nelle parole di Barbara che ha tatuato sul braccio il nome del figlio. La vicenda ha scatenato il web non solo nella buffera ai comuni di Paese, quello di Treviso è entrambi però estranea la vicenda, l'autosoccorso che ha mandato la fattura parla di troppa polvere su questo caso. Finisce in un vigneto con il suo furgone 57enne di Vittorio Veneto, era al volante con un tasso alcolico 7 volte superiore al limite, senza patente gli era stata sequestrata per lo stesso motivo 10 giorni prima. Duplicio omicidio di Paese, Massimo Pestrin che è ucciso a colpi di pistola fratello e cognate al 3 maggio scorso, è sano di mente e depositata la perizia psichiatrica. Nel Caraccio resta la tensione, oggi a Padova spiccava l'assenza del fazzoletto verde nel taschino di Roberto Marcato, dato ormai in Forza Italia, Treviso Mario Conte cerca di serrare le file, la Lega deve tirare fuori gli attributi. Controlli nelle strutture ricettive scoperto nel Padovano, un B&B che nascondeva una piantagione di cannabis, il titolare trevigiano voleva arrotondare le entrate. Mondo del vino in lutto per la morte di Giorgio Cecchetto con la sua azienda di Vazzola era un punto di riferimento nel 2005 e inventò la vendemmia del Raboso con i ragazzi Down. La classifica delle province più sportive d'Italia vede la marca seconda in Veneto, ma è scesa al diciottesimo posto, intanto oggi Debora Compagnoni ha presentato la settima edizione di Camminare per la vita. Dalla politica alla cronaca, dall'economia alle storie di ogni giorno, i riflettori di ring si riaccendono sui fatti del Veneto, stasera è il primo appuntamento dalle 21.15. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, dunque l'avete sentito dai titoli, torna questa sera la nostra trasmissione ring e torna dunque anche il nostro sondaggio e questa sera il sondaggio riguarda la politica e ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali, fuga in Forza Italia e duello Tosi-Zaia, se volete rispondere sì, lo vedete in verde lo 0422 1626 691, se invece volete rispondere no, è 0422 in rosso 1626 690, l'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione, come vi dicevo prima, di questa sera ring. Ed ora la cronaca, l'ennesima beffa, così la madre del 17enne investito ucciso da un poliziotto ubriaco a Paese, alla famiglia il conto della rimozione dello scutere della polizia del sangue sull'asfalto, la rabbia e il dolore di mamma Barbara che ha tatuato sul braccio il nome del figlio. Io non dovevo ricevere quella fattura, io inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere una fattura che indicava il pagamento della polizia della strada, di un incidente che non ha causato mio figlio. 183 euro per rimuovere i rottami dello scooter del figlio e lavar via il sangue dall'asfalto alla famiglia di Davide Pavani, il 17enne morto l'8 maggio del 2022 a Paese, travolto dall'auto dell'agente di polizia, 31enne Samuel Seno, è toccata anche questa beffa, come la definisce mamma Barbara Vedelago, vedersi recapitare il conto dopo che il loro figlio è stato falciato sulla strada da un'automobilista che, in stato di ebbrezza, correndo troppo forte, ha invaso la corsia opposta. Il patteggiamento quattro giorni fa, tre anni e mezzo la pena, come si fosse trattato, dicono Barbara e i suoi legali, gli avvocati Davide Favoto e Elisa Caldato, di un incidente qualsiasi, privo degli elementi di gravità che sono invece emersi. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere, non ha pagato niente, alla fine lui non ha pagato niente. Ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta Barbara, che in tribunale ha incontrato faccia a faccia il poliziotto responsabile dell'incidente, voleva chiedergli degli ultimi 5 minuti di vita di Davide, sapere, dice, se mio figlio là era da solo oppure no. Dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori, l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, ha mosso una mano, piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Il trentunenne le ha chiesto scusa, non perdono. Per quello, dice la mamma di Davide, ci vorrà del tempo. Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi saprà cosa, forse, in qualche modo, può rendersi conto cosa può aver provocato la mia famiglia. E allora a quel punto posso darmi il campanello e io deciderò. Nessuno riporterà indietro Davide, prosegue Barbara, che si è fatta tatuare il nome del figlio sull'avambraccio con la scritta La mia stella nel cuore. Quando è che se l'hai fatta? A Natale. Così, Davide qui sempre con sé. Sotto la pelle, è diverso, perché è con me, ma qua è sotto la pelle anche. Davide, che sulla patta della moto aveva il numero 805, l'otto del cinque, dice la mamma, la data della sua morte. Un destino feroce che questa famiglia cerca di affrontare con coraggio e Barbara spiega perché. Io a casa ho Nicola. L'altro figlio. Sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose con il cuore e fino in fondo. La richiesta di pagare le spese di pulizia dell'asfalto dopo l'incidente costato la vita a Davide ha scatenato il web e non solo nella bufera il comune di paese e quello di Treviso. Entrambi però estranei alla vicenda l'autosoccorso di paese che ha mandato la fattura parla di troppa polvere su questo caso. Guardi, è troppa polvere su questo argomento. È troppa polvere. Non voglio mettere nessuna dichiarazione. Grazie. Troppa polvere. Il titolare dell'autosoccorso di paese intervenuto sulla scena dell'incidente costato la vita a Davide Pavan si limita a queste parole dopo che la fattura ha inviata alla famiglia del diciassettenne per la rimozione della sua moto e la pulizia dell'asfalto è diventata un caso. Una bufera da cui sono stati travolti il comune di paese e quello di Treviso con un post il sindaco del capoluogo Mario Conte fa sapere di stare ricevendo email e messaggi molto pesanti che accusano Cassugana di essere l'ente che ha richiesto il pagamento. La città di Treviso non è in alcun modo implicata nella vicenda chiarisce Conte e lo stesso di fatto fa la collega di paese Katia Uberti. In questa vicenda il comune non è assolutamente coinvolto in alcun aspetto né dalla parte iniziale nell'affidamento del lavoro per il servizio né nella parte finale quindi noi non stiamo stati coinvolti in nessun modo. È una ditta privata che ha eseguito l'intervento e a normativa di legge ha emesso al fattura e dispiace perché effettivamente una vita anch'io sono mamma e quindi queste cose la burocrazia delle volte è talmente fredda e infernale però è una prassi e in altri casi anche a paese passati poi venivano rientravano queste spese proprio nella compensazione a livello legale tramite assicurazioni non certo magari adibitati direttamente ai colpevoli ai familiari coinvolti. Neanche volendo voi potreste prendervi carico anche solo per fare un gesto simbolico? No perché ripeto è una questione tra due cittadini privati la legge non ce lo consente non è che non vogliamo non ce lo consente quella notte la carrozzeria di Padernello non solo aveva recuperato i mezzi incidentati prendendoli in custodia dopo che erano stati posti sotto sequestro ma si era occupata anche di ripulire l'asfalto dai liquidi del motore e dal sangue i costi invece che venire coperti tramite assicurazione sono stati poi addebitati a novembre alle due parti coinvolte allora non si sapeva l'esito del processo e quindi ha diviso esattamente a metà l'importo la famiglia quella somma l'ha pagata l'assicurazione non l'ha compensata ma non è la questione economica a pesare è lo schiaffo ennesimo che si somma a una pena giudicata troppo lieve al responsabile del sinistro voi rispetto a questo avete intenzione di fare qualcosa? Allora ne parleremo con la famiglia e valuteremo il da farsi è evidente che in questo momento l'attenzione su cui ci siamo focalizzati è principalmente la questione risarcitoria per quanto riguarda la fidanzata e gli zii la fidanzata è stata esclusa dalla Costituzione in parte civile e noi riteniamo che questo non sia stato corretto e quindi adesso valuteremo l'azione civile ovvio che l'attenzione della famiglia era sulla sentenza penale che evidentemente non ha dato gli esiti che si speravano ecco al volante quasi in coma etilico 57enne vittoriese è trovato la guida con un tasso alcolico sette volte oltre il limite consentito la patente gli era stata già ritirata per lo stesso motivo era la guida con un tasso alcolemico praticamente da coma etilico 3.70 l'uomo 57 anni residente a Vittorio Veneto era al volante di un furgone quando nei pressi del centro vittoriese è uscito di strada finendo la corsa contro un vigneto all'uomo che era ricorso alle cure dei sanitari per essere medicato era stato riscontrato un valore sette volte superiore al limite consentito al momento dell'incidente sinistro che poteva avere conseguenze ben più gravi se l'autista avesse invaso la corsia opposto o avesse travolto pedoni e ciclisti fra l'altro al 57enne era stata già ritirata la patente dieci giorni prima della fuoricita autonoma perché trovato in un precedente controllo sempre alla guida in stato di ebrezza nonostante tutto l'uomo aveva continuato a bere e a guidare ora è stato denunciato dai carabinieri che continuano i controlli su strada per arginare il fenomeno degli incidenti stradali e la guida in stato di ebrezza la notte scorsa intorno alle 2.30 a Valdo Biadene è stato affermato e denunciato un 55enne di origini macedoni l'uomo è stato sottoposto ad accertamento alcolemico con etilometro il tasso riscontrato era pari a 1,95 patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed ancora nella nottata tra venerdì e sabato a Casale Sul Sile i carabinieri della locale stazione hanno proceduto in via nuova trevigiana al controllo di un 64enne che alla guida della propria autovettura è stato riscontrato positivo all'alcol test con un tasso pari a 0,89 anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida e continuiamo con la cronaca incidente sul lavoro in una fabbrica a Loria in via Giovanni Falcone un operaio 19enne ha riportato una frattura alla gamba dopo essere stato travolto da una lastra sul posto è arrivato anche un elicottero indagini in corso da parte dello Spisal il giovane è fuori pericolo avrebbe riportato come detto una lesione all'arto inferiore ed ora parliamo del duplice omicidio di paese Massimo Pestrin è sano di mente depositata la perizia psichiatrica Massimo Pestrin il 50enne ex guardia giurata che lo scorso 3 maggio a paese uccise con 11 colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento al momento del fatto era capace di intendere e volere depositata la perizia psichiatrica non è sorpreso l'avvocato difensore Annalisa Zanin anche se ovviamente sperava in un altro esito prima leggerò la perizia commenta poi concorderò i prossimi passi con il mio assistito in questi mesi l'uomo rinchiuso in carcere a Santabono continua a non capacitarsi di quanto ha commesso quel terribile giorno ci dice legale lui che aveva preparato il pranzo al fratello Lino e alla cognata poi in un attimo la tragedia armato di pistola è entrato in cucina e li ha affreddati senza lasciargli scampo in carcere vanno a trovarlo sempre i figli i nipoti e la sorella da racconto di tutti Massimo Persini non aveva un brutto rapporto con Lino ci spiega l'avvocato il movente è davvero difficile da capire il cinquantenne continua a ripetere che non ricorda molto di quello che è accaduto poco prima delle tredici credo si sia trattato di un momento di blackout mentale dovuto al forte stress che stava vivendo ora dovrà rispondere dell'accusa di duplice omicidio convalidato l'arresto del 22enne tunisino che venerdì scorso ha seminato il terrore al Prix di Montebelluna il giovane era entrato nel supermercato ed aveva occultato nello zaino diversa merce una volta alle casse per tentare di fuggire aveva strattonato la direttrice e poi non contento aveva spintonato anche due anziani facendoli finire rovinosamente a terra il 22enne in preda alla follia aveva continuato prendendo a calci la porta del Prix fermato ed arrestato dai carabinieri poco distante nei pressi del parco Manin il giovane si è difeso dicendo che sarebbe stato aggredito il magistrato questa mattina ha deciso per la convalida dell'arresto il giovane rimane in carcere ed ora siamo alla politica con le tensioni in casa Lega a sei giorni dal raduno di Pontida oggi a Padova Roberto Marcato dato ormai in Forza Italia ha seminato nuovi indizi a Treviso Mario Conte cerca di serrare le fila del partito adesso basta dice la Lega deve tirare fuori gli attributi l'appello che faccio a tutti coloro che ricoprono un ruolo e oggi magari si sentono un po' ai margini è invece di tirare fuori la grinta cominciare a parlare di temi di non abbandonare la barca perché quando le cose van bene fa tutti piacere far parte di questa squadra quando le cose diventano un po' più complicati ci servono gli attributi ecco io voglio un partito con gli attributi e sarà mia cura impegnarmi per tirare fuori dei temi amministrativi che possono diventare una proposta politica sembra quasi rispolverare i toni di bossiana memoria Mario Conte in quello che ha tutti gli effetti un duplice appello uno ai delusi che meditano la fuga l'altro al partito perché riprenda vigore sullo sfondo il settembre nero della Lega in Veneto con tre assessori regionali Caner, Marcato, Bottacin che sembrerebbero tentati dalle sirene di Flavio Tosi l'ex leghista oggi numero uno di Forza Italia che i suoi ex colleghi conosce bene così come i loro mal di pancia lo stesso Caner sabato aveva affidato alla nostra emittente un messaggio criptico non ho nulla da dichiarare prima il partito deve chiarire alcune cose con me le sue parole esatte con il segretario trevigiano Dimitri Coin che 24 ore dopo ha rimandato di fatto i livelli regionali quindi Alberto Stefani e questo quando mancano sei giorni a Pontida appuntamento che per i veneti potrebbe tramutarsi in un ammutinamento del Banti anche perché va detto smentite ufficiali non sono mai pervenute da nessuno dei diretti interessati anzi bulldog Roberto Marcato semina indizi verbali e non verbali in tanti alle cerimonie ufficiali dell'11 settembre a Padova hanno notato la mancanza nel suo taschino del classico fazzoletto verde alternato a Leone di San Marco un marchio di fabbrica ha scivolato sul cuore è sempre qua il Leone che erogisce sempre qui perché ci prepariamo un fazzolettino azzurro questo è bianco azzurro ma perché è in pandanco la cravata la scelta del colore non significa no assolutamente io sono un uomo di buon gusto questione di stile insomma così come la citazione ai margini del discorso ufficiale di Elisa Venturini capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale perché un assessore dovrebbe citare un consigliere è un consigliere regionale presente io porto sempre il saluto di tutti i rappresentanti regionali che sono presenti assieme a me di Maghreb a finire ai raggi X anche il suo discorso per le commemorazioni ritenuto troppo moderato sui temi dell'integrazione anche qui Bulldog gioca con abilità ma ciò sono passati 22 anni dovessi ripetermi sarei io quasi una partita a scacchi dunque con il numero uno del lanci che suggerisce una linea al partito per uscire dall'impassa dobbiamo tornare a far politica tra la gente e per la gente solo così potremmo recuperare credibilità e entusiasmo adesso la conta di Pontida la partita è politica personale psicologica a sintetizzarla paradossalmente uno dei passaggi più emblematici di Eccebombo mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente cronaca cronaca si tuffa da uno scoglio e finisce con il volto contro una roccia il grave incidente è avvenuto in Croazia il giovane trevigiano è stato sottoposto al caffoncello ad un delicato intervento chirurgico a rischiare la vita un 24enne trevigiano il giovane che si trovava in vacanza con gli amici si è tuffato da uno scoglio finendo contro una roccia prima è stato portato in ospedale a fiume per escludere danni cerebrali o del midollo spinale poi a treviso aveva riportato un importante trauma cranio facciale il 24enne è stato sottoposto da un lungo delicato intervento chirurgico al caffoncello dalla fronte al mento tutte le componenti osse del volto erano fratturate molte in maniera frammentata spiega Luca Guardanardini direttore dell'unità operativa di chirurgia maxillo facciale grazie alla collaborazione con i medici anestesisti e l'alta professionalità del personale infermioristico si è provveduto a riallineare e a stabilizzare tutti i frammenti ossei scomposti e fratturati mediante l'utilizzo di mini placche e viti in titanio viti e placche che il paziente potrà lasciare in sede per tutta la vita essendo il titanio materiale biocompatibile alcuni incidenti possono essere evitati spiega il direttore generale dell'Ulse 2 Francesco Benazzi che lancia un appello fate attenzione perché facilmente può succedere che una bravata fatta solo per far colpo sugli amici possa trasformarsi in tragedia ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità Siamo tornati in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dopo l'ultimo caso a Piazza Borsa in cui un ragazzo è entrato in un supermercato armato di pistola giocatolo Mario Conte invita i genitori a prestare attenzione mentre Rassicura Treviso resta la seconda città più sicura d'Italia In questo caso che è più un gesto di estrema maleducazione le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente e quindi hanno messo la parola a fine a questo episodio C'è da dire che ormai non ci stupiamo più della maleducazione di questi ragazzi segno evidente che vivono un vuoto familiare importante noi cerchiamo di sostituirci da un punto di vista valoriale alle famiglie siamo però costretti a intervenire anche con le forze dell'ordine Comenta così Mario Conte il fatto accaduto due sabati fa che ha visto protagonista un ragazzo entrato al supermercato di via Zorzetto nel piano centro di Treviso intenzionato a comprare da bere con nascosta nella cintura una pistola poi rivelatasi giocattolo è l'ennesimo episodio nel quadrilatero di piazza Borsa che porta di nuovo a galla il tema della sicurezza nella zona e il primo cittadino si appella direttamente ai genitori non diamo per scontato che il nostro figlio sia sempre il più educato il più bravo esente da questo tipo di situazioni e cominciamo a dialogare di più con i nostri figli perché è evidente che c'è qualcosa che non funziona stanno manifestando un disagio che secondo noi tante volte parte proprio dalle famiglie è di qualche mese fa la lettera che il sindaco di Treviso aveva scritto ai ministri per dare avvio a un confronto concreto sul tema del disagio giovanile anche alla luce degli episodi di violenza da parte di bande di ragazzi accaduti in città mi ha risposto il ministro dello sport che condivide la visione e che è ben lieto di incontrarmi adesso nelle prossime settimane farò un giro anche con i ministri che erano oggetto di questa lettera istituzioni che si muovono anche dopo le parole del ministro Carlo Nordio che intende proseguire con la linea dura ma conterà sicura da un punto di vista della sicurezza ci tengo a ribadirlo siamo tra le prime due città a livello nazionale ovvio che non dobbiamo abbassare la guardia ovvio che dobbiamo investire da un punto di vista della repressione di certi episodi ma io resto fortemente convinto che dobbiamo investire nella prevenzione dobbiamo cambiare il modello educativo dei nostri ragazzi furto nella notte appena trascorse in due negozi all'interno del centro commerciale Econè in via San Giuseppe a Conegliano i ladri hanno rubato sia vestiti sia denaro contante quest'ultimo dal fondo cassa in due cassaforti per circa 2.000 euro in un negozio e 3.500 nell'altro sono in corso le indagini dei carabinieri di Conegliano non si può escludere che si tratti della stessa banda che ha messo a segno i colpi precedenti l'ultimo risale infatti l'ottobre 2022 simile le modalità ed ancora cronaca confiscati beni per 3 milioni di euro dalla guardia di finanza di Treviso 7 imprenditori trevisiani condannati in via definitiva 25 fabbricati 27 terreni 7 veicoli tra cui una BMW 2 partecipazioni societarie disponibilità finanziarie sono i beni confiscati dal comando provinciale delle fiamme gialle di Treviso per un importo complessivo di 3 milioni di euro 7 i condannati si tratta di imprenditori trevisiani attivi in vari settori dall'ambito edile alla ristorazione alla gestione di partecipazioni societarie Nello specifico si tratta di tre imprenditori del Coneglianese due della zona di Vittorio Veneto e due di Castelfranco tra loro anche un tabaccaio condannato per peculato reo di non aver versato alla regione Veneto 3 mila euro ottenuti dagli automobilisti per il pagamento del bollo delle loro auto i sette sono stati condannati in via definitiva per reati di omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette dell'IVA omesso versamento dell'IVA peculato e riciclaggio Complessivamente sono stati condannati a 114 mesi di reclusione per condanne che vanno dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha dunque agito cautelando beni per un valore pari a 3 milioni di euro equivalenti alla montare degli ordini di confisca Controlli nelle strutture ricettive scoperto un B&B che nascondeva una piantagione di cannabis il titolare voleva arrotondare le entrate Magazziniere per tutti ma per arrotondare aveva scelto un secondo lavoro coltivare marijuana nei guai un 46enne di Vigo d'Arzene ma da qualche tempo residente a Treviso durante un controllo nelle strutture ricettive di Padova in quello che doveva essere un bed and breakfast la polizia ha trovato una piantagione di cannabis l'abitazione adibita a locazione turistica è intestata a un magazziniere 46enne che si è giustificato dicendo che quello era uno strumento per arrotondare lo stipendio insospettiti da strani odori e rumori di un potente impianto di areazione i poliziotti hanno approfondito i controlli durante il sopralluogo in un box in cartongesso sono state trovate e sequestrate 58 piante per un totale di circa 4 kg di infiorescenze sistemate in un garage trasformato in una serra oltre alla strumentazione per mettere a frutto le piante sono stati trovati anche 300 grammi di droga già confezionata il 46enne è stato arrestato e messo ai domiciliari nel suo bed and breakfast a Vigo d'Arzere in attesa di convalida dell'interrogatorio di garanzia domani alle 12 i telefoni cellulari in Friuli Venezia Giulia saranno raggiunti da un messaggio di test IT alert il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per cui i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella regione suoneranno contemporaneamente mettendo un suono diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati vista la vicinanza territoriale nelle province di Venezia Treviso in particolare nell'area del Veneto orientale è possibile che alcuni dispositivi agganciano il segnale proveniente da oltre il confine regionale ricevendo quindi il messaggio di test chi diceva il messaggio non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio l'invito per tutti che abbiamo ricevuto correttamente il messaggio o meno è di andare sul sito it alert.it e rispondere al questionario per consentire di migliorare lo strumento il 21 settembre sarà effettuato uno specifico test all'interno della regione Veneto ed ora parliamo di caro vita e caro scuola in particolare comuni e aziende sono in campo per sostenere le famiglie libri ma anche abbonamenti possono entrare nei piani di welfare aziendale la coperta è corta per tutti ma lo è in particolare per le famiglie tra caro trasporti libri alle stelle articoli di cancelleria come gioielli una situazione di difficoltà diffusa che sta portando la confartigianato trevigiana ad accelerare sulla promozione del welfare aziendale gli strumenti normativi ci sono e sono sempre di più gli imprenditori a utilizzarli è un'opzione che le aziende che magari sono nelle condizioni di dare più attenzione ai propri dipendenti con delle risorse aggiuntive possono fare cosa possono rimborsare proprio ad esempio lo stesso acquisto dei libri scolastici fatti dai propri dipendenti genitori anche semplicemente con un rimborso nella busta paga quindi con operazioni molto semplici piuttosto che rimborsare direttamente il costo anche degli abbonamenti per eventuali treni bus o trasporto locale ammonta a 3.000 euro la quota di fringe benefit attivabile sempre dalle aziende per chi affilia carico e dove non arrivano i bonus governativi e gli incentivi detassati ci sono gli enti bilaterali restano mobilitati i municipi a Preganziol per esempio la giunta Galeano riconferma la linea del 2022 congelando le tariffe dei servizi comunali ovvio che questo in bilanci che devono comunque quadrare chiama necessariamente a fare delle scelte e quindi resta indietro la buca resta indietro uno sfalcio dell'erba restano indietro altre risorse ma di fronte alle famiglie alla situazione economica che stiamo vivendo in questo momento storico la scelta precisa che abbiamo fatto era quella proprio di cercare di favorire il mantenimento dei costi precedenti senza chiedere nulla in più alle famiglie stesse è morto la scorsa notte a 61 anni Giorgio Cecchetto mondo vitivinicolo e dell'impeditoria trevigiana in lutto per la scomparsa di uno dei punti di riferimento del settore del vino Cecchetto fu il fondatore dell'omonima azienda con sede a Vazzola la notizia della sua prematura scomparsa a causa di una malattia contro la quale lottava da qualche anno ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano con il passare degli anni oltre alla produzione di vino Giorgio si era concentrato anche sulla tutela del patrimonio e sull'aiutare le persone in difficoltà nel 2005 inventò la vendemmia alla solidarietà da quell'anno i ragazzi dell'associazione italiana persone down della sezione marca trevigiana si ritrovano ogni anno nell'azienda agricola per la vendemmia del Raboso o del Piave con i prodotti che venivano presentati poi al Vinitaly ecco come raccontava questa esperienza al microfono di Lucio Zanato nel marzo scorso iniziativa secondo me importantissima per la nostra azienda per i ragazzi per il sociale per tutto quello che sta attorno oggi fare impresa non è solo pensare al business ma è pensare anche a chi ci sta attorno a persone alla comunità questo è un modo inclusivo di fare azienda secondo me questi ragazzi sono eccezionali ogni anno vendemmiano vinificano e poi imbottigliano questo vino è arricchente per noi e anche per loro mi vengono i brividi a parlare ma veramente è una cosa arricchente non si può capire se non si prova la classifica delle province più sportive d'Italia vede il Treviso al diciottesimo posto lo sport è fondamentale mi ha insegnato a rialzarmi a ricominciare sempre le parole di Deborah Compagnoni alla vigilia della settima edizione di Camminare per la vita Treviso si colloca al diciottesimo posto nella classifica 2023 delle province più sportive d'Italia scende di otto posti dal 2022 anno in cui la vista entrare nelle prime dieci posizioni dati che arrivano dall'indagine condotta da PTS per il sole 24 ore quattro le categorie su cui si è basato lo studio strutture sportive sport individuali di squadra e sport e società categorie che hanno tenuto conto di organizzazione di grandi eventi numero di tesserati alle società risultati sport paralimpico turismo sportivo scuole di formazioni e investimenti su tutto il comparto dedicato al benessere e l'attività fisica Treviso crolla dunque ma resta la seconda provincia del Veneto per indice di sportività prima a Vicenza che è sesta a livello nazionale subito dopo Belluno al 22esimo posto Padova al 25esimo Verona al 31esimo Venezia al 35esimo e infine Rovigo all'ottantesimo classifica che arriva alla vigilia dell'ormai tradizionale camminata per la vita prevista per domenica 17 settembre un evento in cui lo sport diventa sinonimo di inclusione e socialità Lo sport ha fatto parte della mia vita e mi ha insegnato molto oltre appunto al sacrificio alla sconfitta ma poi a sapersi rialzare ripartire Insegnamenti che solo lo sport sa dare e che in una giornata dedicata riesce a mettere insieme persone di tutte l'età dai bambini agli anziani grazie alle associazioni ai tanti volontari che rendono possibile l'evento Si scopre il territorio si scoprono dei giochi delle attività è un modo per stare assieme ed è anche un messaggio proprio sociale e questo noi ci teniamo tanto Un percorso di 4-10 km liberamente accessibile che attraversa tutta la città e che si conclude la riserva naturale del Parco dello Storga Il ricavato dell'iscrizione del costo del cestino Picnic sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano di ricerca e cura di gravi patologie pediatriche e di aiuto psicologico come per esempio Fondazione Città della Speranza e il Filo di Simo Lo sport è il punto di forza che è un qualcosa di sano ancora in un mondo un po' così così per cui noi raccogliamo tutte queste persone che credono in questi valori Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia La cronaca in primo piano questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso un impianto di trattamento acque in località zona industriale di Paludi nel comune di Alpago per uno sversamento di acido peraceutico la squadra intervenuta da Belluno con due mezzi dei vigili del fuoco il mezzo del MNBCR nucleare biologico chimico radiologico ha messo in sicurezza il sito di raffreddamento del contenitore eliminando l'evaporazione del liquido successivamente sono arrivati anche i colleghi MNBCR dei vigili del fuoco di Venezia che ha provveduto al travaso dell'acido in altri contenitori mettendo in sicurezza l'impianto l'anomalia verificatosi al vaglio ovviamente dei tecnici dei vigili del fuoco e del personale dell'azienda trattenimento acqua i quali provvederanno a ripristino dell'impianto le operazioni sono terminate nel pomeriggio non bastavano il consueto valzer delle nomine degli insegnanti la salasso sui libri di test e l'allerta per il rialzo in avanti dei contagi covid in provincia di Belluno sull'avvio dell'anno scolastico pesa come un macigno l'allarme lanciato da Dolomiti Bus mancano almeno una dozzina di autisti e per i primi giorni di scuola saranno possibili alcuni disagi mancano autisti per autobus e pulman di linea l'appello che risuona come un allarme l'ha lanciato a Dolomiti Bus alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico che coincide con l'entrata in vigore dell'orario invernale del trasporto pubblico che significa in soldoni un maggior numero di corse rispetto al servizio estivo da organizzare con le carenze di organico che ormai parola di Dolomiti Bus sono arrivate al limite del sopportabile certamente vi è una difficoltà acuita probabilmente anche dal fatto che il nostro territorio è comunque un territorio più difficile vi è la difficoltà di reperire alloggi da dare in affitto ma non soltanto per gli autisti pensiamo anche per gli insegnanti che arrivano magari da fuori provincia da fuori regione per i dottori quindi è un problema diciamo a livello generale a nulla è valso il progetto Academy messo in campo per la selezione la formazione e l'assunzione di giovani autisti ciò vuol dire che l'avvio del nuovo anno scolastico potrà coincidere con disagi importanti stiamo lavorando per assicurare il servizio con la speranza che la situazione possa migliorare nel tempo scrive l'azienda di trasporto bellunese tutto diventa molto più difficile i numeri sono davvero limitati quindi basta che ci sia qualche autista magari che giustamente può star male e il servizio davvero va in forte difficoltà sul trasporto scolastico limitatamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado ha lavorato il comune di Belluno che con gli assessorati all'istruzione e i lavori pubblici è stato impegnato anche sul fronte delle manutenzioni e dell'organizzazione dei traslochi delle scuole verdi di Cavarzano Badilet e Borgo Piave frattanto domani a Castione saranno inaugurate le nuove primarie valeriano restituite alla comunità dopo due anni di lavori il nuovo anno scolastico si apre con i problemi di sempre e fra il valzer delle nomine dei docenti e il caro libri di testo torna a bussare il covid contagi in risalita anche in provincia di Belluno oppure se i sintomi sembrano fortunatamente più lievi rispetto al passato cadute le norme sull'isolamento per decisione del governo ci si affida al buon senso di tutti continuiamo con la cronaca sei patenti ritirate e contravvenzioni per 15.000 euro sono state combinate dai carabinieri della compagnia di Cortina nello scorso weekend al termine di due giorni di controlli che hanno interessato i passi dolomitici velocità elevate sorpassi azzardati sono solo alcuni dei comportamenti di stanti anni luce dalla regola del codice della strada che i militari hanno accertato nessuna tolleranza ammonisce il comandante provinciale dell'arma Pigozzo che pensa di correre e non trovare ostacoli nel suo cammino sappia che troverà sempre una pattuglia che gli ricorderà come ci socomporta in modo civile oltre che legale i controlli continueranno anche nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza chi vuole frequentare la montagna senza incorrere in pericoli derivanti da condotte spericolate di chi imprudentemente scambia quella viabilità come se fosse una pista da corsa Asfaltature e sicurezza stradale è il partito il piano che riguarda il territorio del comune di Belluno in questi giorni è realizzato il primo stralcio delle opere nelle prossime settimane sarà realizzato il grosso degli interventi bitume nuovo e dossi per favorire il rallentamento degli automobilisti e la sicurezza dei pedoni il comune di Belluno ha quasi completato il primo stralcio di asfaltature tra il Castionese e il quartiere di Fiammoi per ora solo un inizio commenta l'assessore lavori pubblici Franco Roccon per la prima parte dei lavori sono stati impiegati 65 mila euro impegnati lo scorso maggio arriveremo poi col secondo stralcio da 400 mila euro in cui stiamo mettendo giù un elenco dettagliato degli interventi da fare ovviamente cercando di contentare più che altro la periferia che è stata lasciata indietro negli ultimi anni ma recupereremo anche il centro storico i lavori di asfaltatura in questi giorni hanno coinvolto via Nongole a Castion grazie a una copartecipazione alla spesa di BIMA GSP Pian delle Feste e poi via Agordo dove stava cedendo un tratto di sedime e via Fiammoi ci sono i tre dossi di Fiammoi Orzees e Castion mettono in sicurezza i pedoni stiamo terminando anche con le righe per la delimitazione di questi e andremo avanti anche con il restante piano delle asfaltature gli interventi vengono eseguiti nei tratti delle comunali dove erano state segnalate e accertate le situazioni di maggiore emergenza anche in termini di sicurezza per i pedoni uno dei tre dossi è stato installato infatti in via Fiammoi all'incrocio della strada che porta alla scuola primaria certo 400 mila euro non sono tantissimi per fare tutto quello che necessita avremo una gradualità di interventi ovviamente stilati attraverso anche i nostri uffici mancano sei giorni all'appuntamento annuale che a Pontida riunisce i militanti della Lega in provincia di Belluno le sezioni si sono mobilitate la risposta è già buona afferma il segretario del Carroccio Andrea De Bernardini nei temi a cui anche la Lega Bellunese sta lavorando interessano da vicino la gente autonomia e legge per la montagna la partecipazione all'evento è aperta a tutti anche non tesserati domenica 17 alle 6.40 dalla piazzale della Resistenza di Belluno di fronte allo stadio comunale partirà un pulma che si fermerà a sedi con Santa Giustina Cesio Maggiore Feltre e Fonzaso per poi dirigersi verso il più famoso prato della provincia di Bergamo e questa era la nostra ultima notizia io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito arrivederci Busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene ben trovati al meteo anticiclone ancora protagonista ma sul nostro territorio lo scenario cambierà mercoledì con l'aumento dell'instabilità vediamo intanto il dettaglio di martedì 12 settembre sul Veneto bel tempo tanto sole ovunque con inizialmente cielo sereno intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio possibile anche qualche locale foschia in pianura nelle ore più fredde temperature con contenute variazioni di carattere locale minime sui 14 19 gradi massime tra 26 e 32 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia sarà anche qui soleggiato con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura temperature minime tra 18 19 gradi massime sui 29 30 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove dominerà il sole tuttavia nel pomeriggio sera saranno possibili alcuni rovesci o temporali sparsi temperature minime intorno ai 17 19 gradi massime sui 30 32 all'incirca dal meteo per ora è tutto vi do appuntamento al prossimo aggiornamento arrivederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura multi si 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 Grazie a tutti.